È tutta una visione appunto aperta degli spazi, non è una visione... Aperta ma dove il colore non è soltanto lo spazio, è il colore, lo spazio colore, lo spazio materia, non c'è... Sì, sì. Non c'è mai niente di astratto, diventano sempre delle occasioni per... Anche quella parete lì. Quella parete, ecco, quella parete che è stata fatta perché il cemento ha uno spessore modesto, piccolissimo, per cui freddo il caldo. Allora è stata tutta impermeabilizzata all'interno e poi coperta con questa masonizia o non so cosa, verniciata.